Grazie a tutti quelli che sono stati coinvolti in questo progetto, a partire dalla cooperativa di Valdelambro, dalla quale è partita un po' l'idea e l'origine di questo progetto. Noi abbiamo aderito con grande entusiasmo, come dicevate prima, collaboriamo già da diversi anni e abbiamo un lavoro anche da sviluppare nei prossimi, quindi è una collaborazione molto stabile la nostra e siamo molto felici. Questo è uno dei progetti che caratterizza un po' questo 2017 del Parco Valdelambro, che è diverso rispetto agli anni passati, cioè da quest'anno abbiamo iniziato a inerizzarci con tutti i nostri lavori anche su una parte di approfondimento culturale che non può essere lasciata indietro. Il Parco è un elemento che tutela il paesaggio e l'ambiente, ma ci siamo resi conto che tutto questo non deve mai essere disgiunto da un approfondimento culturale che deve accompagnare la vita di ciascuno di noi. E quindi un progetto come questo, realizzato poi attraverso i ragazzi, è stato per noi un'opportunità grande per iniziare a investire anche in campo culturale. Ovviamente io devo ringraziare la Fondazione Monza e Prianza perché...